Titolare nella passata stagione in FA Cup, un ottimo secondo. Diga perde palla, la recupera il Liverpool ma solo per un attimo. Dosebi se la fa rubare da Emre Can, non riesce a controllare Magnatis. Gerrard per Sturridge, gran palla, punta all'uomo. Sturridge calcia, Sterling sottoporta! Sono bastati 5 minuti al Liverpool per portarsi in vantaggio. Sterling usato male, malissimo. Sturridge su questo corridoio meraviglioso, disegnato da Gerrard. La deviazione di Abidal, partito in posizione regolare, direi Sterling, al momento del tiro di Sturridge. E al di qua della linea dei difensori dell'Olimpia Cossa. E dunque dopo 5 minuti, 1-0 Liverpool, ha segnato Sterling.